Tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Sono queste le ipotesi di reato con cui il GIP del Tribunale di Agrigento, su richiesta della locale procura, ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori nei confronti di due giovani coniugi. La Polizia di Stato ha notificato al padre delle minori il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora ad Agrigento e Aragona e l'obbligo di presentazione due volte a settimana presso il commissariato di Polizia. La misura cautelare scaturita dall'indagine della squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, che ha riscontrato delle lesioni nei confronti di una neonata di sei mesi. Alla figlia, accompagnata dai familiari all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, i medici riscontrarono una serie di ecchimosi e traumi sul pub e alla testa, nonché un'emorragia cerebrale che richiedeva l'immediato trasferimento della bambina nell'isoccorso all'ospedale Policlinico di Messina, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica. Le indagini, supportate anche da attività tecniche, hanno permesso di scoprire i gravi indizi di colpevolezza a carico dei due coniugi, che secondo quanto ricostruito dalle indagini, avrebbero attuato in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della neonata. In seguito, quindi, la procura ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'applicazione delle misure cautelari nei confronti dei due genitori.